E adesso conosciamo chi è il nuovo Vescovo della Diocesi di Avezzano nella scheda che abbiamo preparato per voi. Don Gianni Massaro, 54 anni, andriese, vicario generale della Diocesi di Andria e dallo scorso gennaio amministratore parrocchiale della comunità Madonna della Grazia. Responsabile del settore pastorale, evangelizzazione e catechesi e direttore dell'ufficio catechistico diocesano e coordinatore del giornale periodico Insieme. A 25 anni è stato ordinato sacerdote il 5 dicembre del 1992 da Monsignor Raffaele Calabro, allora Vescovo di Andria, che lo ha nominato vicario generale, carica confermata da Monsignor Luigi Manzi e sino ad ora ricoperta. Si è formato nei seminari di Andria in Molfetta ed è punto di riferimento per tutti i sacerdoti della Diocesi. È stato proprio lui a gestire il delicato passaggio che la Diocesi ha vissuto da Calabro all'attuale Vescovo Monsignor Manzi. Di lui tutti apprezzano i modi gentili e affabili.